Un volumetto godibilissimo nella forma e nei contenuti, elegante e curato nella veste grafica, piacevole, lungimirante e di spessore nei contenuti, è il libro del giornalista ispicese Salvatore Puglisi, edito dalla Cromato Edizione di Ispica. Cronache e storie è il titolo di una raccolta di articoli giornalistici pubblicati sul giornale di Sicilia dal giornalista del 1943 al 2015, articoli scrupolosamente conservati nel tempo e riuniti adesso in questa raccolta. Ben 65 articoli riguardanti storie di uomini, donne e istituzioni fatti a cadute ad Ispica, storie significative che come un caleidoscopio raccontano l'anima più genuina della città di Ispica e degli ispicesi nei decenni, ma raccontano anche radici, orizzonti, vizi e virtù di una collettività che si specchia tra passato e futuro, tra la collina che la protegge e il mare che la illumina. Nella prefazione Salvatore Puglisi, classe 1932, spiega ai lettori Il mio vuole essere un omaggio alla città di Ispica e ai cittadini ispicesi. Non sono storie di fantasia, ma fatti accaduti nella nostra città. Sono frammenti della nostra storia che proviamo a condividere e che possono regalarci qualche sorriso. Dall'articolo dedicato al primo sindaco del 1943 a quello dedicato alla proclamazione di città, dagli articoli dedicati alle attenzioni riservate ad Ispica dal cinema e dalla tv nazionale, a quelli in cui sono raccontate vincite, truffe, premi prestigiosi per ispicesi, bizzarre avventure e disavventure di una collettività ora geniale, creativa e coraggiosa, ora prudente e gattopardianamente, paziente o silente. Ogni articolo è una storia di paese, di uomini, di mestieri ed è una pagina di microstoria declinata e incuneata in maniera unica e ripetibile nella macrostoria nazionale e internazionale. Un'opera preziosa che vale e che renderà ogni lettore più consapevole della sua identità personale e collettiva. Grazie, Salvatore Puglisi.